La Delfa e Savellino, dopo la bella prestazione con sconfitta contro Bisciglie, torna in campo domani al Palafium di Taranto contro la CJ di Coach Olive. Un buon roster, quello degli Ionici, che nel match di andata umiliarono a Delmaro e Ghirpini con il punteggio finale di 61-85. Un team completo in tutti i reparti e che è stato allestito per disputare i play-off. Giocatori del calibro di Conti, Diomede e Ponziani, in B sono un lusso. L'ex scandone Erkma, se stato di Grazia, può fare la differenza. E poi c'è quel Gambarota, cestista a lungo cercato dal DS Rotondi, ma che non è mai arrivato in Irpinia. Avellino ha preferito virare su carenza e, proprio l'ultimo arrivato, presenta la sfida ai Tarantini. Il primo intatto è stato molto positivo, specialmente perché conoscevo già la maggior parte dei giocatori. Quindi è stato più facile inserirmi. Già dal primo allenamento sento il feeling con la squadra. Sono molto contento di aver accettato questa sfida e venire qui ad Avellino a provare a raggiungere un traguardo importante, rimanere nella categoria e chissà. Io spero di portare l'esperienza, sicuramente ho qualche qualità in più che magari manca la squadra, però ci sono tutte le qualità per poter far bene già con il gruppo che c'è. Io, ripeto, spero di portare l'esperienza e qualcosa in più per cambiare la rotta della squadra.